ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qui come ogni spesso capita a guardare i vostri orologi i vostri simpatici segnatempo che voi mi lanciate qua in questa rubrica e che io mi devo assorbire non è vero sono tutti belli gli orologi tutti bellissimi quando non sono belli però per me io lo devo dire è mio obbligo purtroppo è il mio dovere il mio ruolo mi impone di dire quello che non mi piace non ce la farei a far finta di dire tutti belli tutti bravi tutti no se sono brutti lo diciamo mi dispiace tantissimo come partecipare lo sapete passa in sovraimpressione la dicitura che spiega che va caricato su wetransfer.com e poi mi mandate il link che io scarico quindi non è che scarico il link scarico il video tramite il link detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo simpatico longin legend diver 39 mm di diametro cassa doppia corona calibro l888 certificato cronometro senza data l'ultimo modello uscito proprio qualche settimana fa ultimo recente restyling del legend diver che da 42 è passato a 39 è sinceramente veramente il top questo nuovo gioco io credo che entrerà a far parte degli invendibili perché troppo riconoscibile troppo identitario capito il legend diver è questo qua longin legend diver che minchia c'ho qua non lo so via i video sono pronti bando ai discorsi inutili barra spaziatrice pronta a subire colpi primo colpo fuoco ciao davide sono gisette la ronza questo è il terzo video che ti mando nell'ultimo ti avevo inviato gli orologi di famiglia oggi invece ti presento una famiglia di orologi nello specifico crono giapponesi anni 70 80 bravo il primo che ti voglio far vedere questo citizen challenge timer bull head con movimento 81 10 automatico funzione fly back una vera chicca per diciamo orologi di questa fascia di presa di categoria bello compatto ultimamente sono andato a trovare il mio orologiaio di fiducia no l'oyardella ad avenza gli ho chiesto appunto stava revisionando uno di questi che è così difficile revisionare questi calibri quali ha sorvolato un po non è che ha detto che così difficile no basta stare attenti ma ha spiegato che bisogna lubrificare bene i pulsanti perché non arrivano a toccare allora potrebbe non funzionare ma in fin dei conti che sono facilmente revisionabili secondo la sua esperienza perché io ho sempre detto sono un po ostici ho sempre sentito dire sono ostici da revisionare lui invece mi sembra che li fa tranquillamente ad occhi chiusi 38 mm di diametro diametro e un lag to lag di circa 42 mm piccolo è bello portabile yes c'ho preso lui ho detto mi serve il fratellino a c'è si sente solo ed è arrivato lui o le quindi identico stesse caratteristiche questo nella colorazione gold è comparso nel film c'era una volta ad hollywood al posto di brad pitt lui ce l'aveva con un cinturino in pelle molto largo bund c'è un nome particolare adesso non mi ricordo bund e questi due orologi fanno parte della categoria simpatici simpatici allora ti spiego cos'è il cinturino bund perché sennò qua sembra che stiamo a pettinare le bambole sono quei cinturini che prevedono una parte al di sotto della cassa unita dai due spezzoni serve a tenere separato l'orologio il fondello dal polso e in primis serviva ai piloti della seconda guerra mondiale agli osservatori dei bombardieri per tenerlo separato diciamo anche dal laddove non lo mettevano sulla giacca esterna esternamente per tenerlo separato dal polso perché alle alti alle altitudini il freddo della della cassa dava fastidio io ne ho avuto anch'io di cinturini bund la mia peggiore scelta infatti la prima volta che mi sono fatto fare un cinturino da john kustraps che l'ho incontrato l'ho conosciuto in quell'occasione lì è per farmi fare un bund e ce l'avevo per un emilton a carica manuale diametro 44 44 lui un orologio d'aviazione più il bund che ingrandisce era veramente un baloccone al polso però era quello il suo scopo doveva essere così ben visibile un orologio da un frigger diciamo così e poi è invece un trucco che si può usare quando si ha un orologio veramente piccolo un 36 che ti sta male al polso perché te lo vedi piccolo se te gli costruisci un bund gli metti un bund che costruisci li vendono al polso appare più grande cioè te lo ingrandisce un pochino ti rende una cosa al polso che è più grande di quello che quindi se avete un orologio vintage militare da 34 da 35 che volete indossare con piacere ma che ritenete troppo piccolo gli fate un bund sotto e lui è contento una volta presi loro manca la mamma e quindi ho preso lei un altro citizen sempre crono però con il movimento 81 00 perché ha un solo contatore questo qui che dire ha un movimento che per anni è stato il più sottile al mondo meno di 6 mm per intenderci non lo so bello con questo quadrante blu bello intenso le sfere arancioni a contrasto prendo per buono lui fa parte della categoria cioè lei anzi perché la parte della categoria molto molto bello bravo io prendo per buono i tuoi dati cioè che quello lì è stato per un certo periodo il calibro cronografico automatico più sottile sul mercato lo dici te lo prendo per buono perché non sono ferrato e non c'è non è che si può sapere tutto ragazzi questa cosa non la so quindi una volta trovata la madre i figli la mamma manca il papà chi se non lui l'elmet il papà di tutti i crono automatici seco 6139 nella referenza 7100 detto elmet e detto anche dart vader se per via della forma della cassa che un po ricorda diciamo l'elmo di dart vader nel film è un nomignolo così io sono tuo padre e lui fa parte della categoria da soddisfazione al base è simpaticone ma si è un simpaticone il problema è che lui è un seico problema quindi lui aveva già una storia con un'altra seico belmatico bello lo svegliarino di seico ci piace qui è una storia un po complicata alla beautiful per intesa perché allora io tanto voglio declinare ogni tipo di responsabilità perché voi magari potete pensare che durante il montaggio sono io a inserire queste puttanate qua no è lui che me l'ha mandato proprio così da fuori di testa quindi declino ogni responsabilità disclaimer questo belmatic fa parte della categoria fa il suo davvero qui infine ti presento l'orologio del giorno che questo bellissimo vostro luna dude luna di un movimento 24 26 0 2 complicazione gm quadrante fantastico con le sfere anche loro particolari e lui racchiude tutte le categorie ovvero simpatico molto molto bello da soddisfazioni al polso e fa il suo bravo ce l'ha così alla prossima alla prossima ciao 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 e sappiamo anche questi simpatici amici del canale che sono un pochino che non ci sono con la testa diciamo la verità dai un pochino sono sui generis no sembra un giocattolo quest'ultimo vostro qua gmt no quel quadrante concentrico lomino lì che fluttua nel vuoto con la tuta spaziale al buio si illumina no queste cose un pochino così giocattolose da luna park a me mi lasciano un po sempre però è un bello orologio complimenti poi per tutta la scelta lì di citizen di seiko e poi anche tutti con la scatola visto ogni volta che c'era un siti in se apriva la scatola è simpatica sta cosa bisogna avere anche un po di gusto di intendersene un minimo e avere anche il coraggio tra virgolette di andare sempre su quel filone lì cioè questo è vero collezionismo no il vero piacere di possedere più versioni dello stesso calibro dello stesso orologio diciamo così per il gusto di averlo perché poi non è che puoi indossare i dieci orologi alla volta non ce li hai lì e ti bei della loro presenza no di ciò vi ho catturato ci vi ho tutti siete tutti i miei è così è una sorta di perversione che poi alla fine poi si può anche riscontrare in come uno monta il video di come fai cartelli top cioffecale insomma che tutte le rotelle non ci sono prossimo video dai buongiorno davide giorno sono giovanni da monza complimenti per il tuo canale grazie e qua abbiamo l'amico giovanni da monza che come incipit facciamo finta che sia un libro come incipit ci mette in mostra il buon batman batman ma interessato batman e poi lo sfondo della sua simpatica dimora o proporti una parte della mia collezione di urologi che tu definisci quarzon che però hanno un loro motivo di esistere secondo me iniziamoci questo è un casio non g shock degli anni 90 abbastanza basico abbastanza cicciotto ma la particolarità di essere quello che ha indossato tom cruise nel primo mission impossible quindi a suo modo è iconico in quel senso perché ho indossato questo attore in questa in questo è un grandissimo film di brian de palma proseguendo abbiamo il successore un altro g shock un g shock radio controllato multiband 6 multifunzione che è stato quello che tom cruise ha indossato nel secondo film di mission impossible un po meno iconico ma sempre abbastanza carino ovviamente orologio indistruttibile che come dici tu ruba l'ora dal satellite scusa non dal satellite ma dall'orologio atomico però mi piace lo indosso con piacere quando voglio avere qualcosa diciamo di forte al polso indistruttibile e il compagnia racconto fino alla tomba praticamente poi terzo orologio anch'esso di shock che è stato quello che tom cruise è indossato nel terzo film questo orologio ha quasi a più di vent'anni da allora ne ha viste tante però è assolutamente perfetto accumulatore ancora originale tiene il tempo benissimo perché anch'esso è radiocontrollato d'acciaio e cosa che ti dica penso che anche lui mi porterà nella tomba poi veniamo all'ultimo g shock il famoso casio oak che tutti chiamano così ovviamente per quel riferimento lontano agli stilemmi gentiani del più noto royal oak questa è la versione un pochettino più diciamo ricercata se vogliamo perché batteria solare quindi carica solare e orario sincronizzato con il bluetooth dell'orologio quindi non è o non ruba il segnale dal orologio atomico ma lo ruba dalla rete dallo smartphone anch'esso in istruttibile g shock lievemente più elegante degli altri che puoi indossare anche non necessariamente quando devi andare a scassarti da giù di una collina o in mezzo al fango ma non puoi mettere tranquillamente con abbigliamento un pochettino più casual diciamo così poi passiamo ai citizen citizen bravo questo è il classico pilot che hanno tantissimi in acciaio robustissimo in acciaio radio controllato batteria solare anch'esso ha oltre vent'anni non ha mai perso un colpo batteria e accumulatore sempre i suoi e molto bello e con molto iconico come se tipo di orologio che ha avuto grandissimo successo sinceramente preferisco questa prima versione alle ultime che hanno rifatto con un design un pochettino più moderno ma un gran pezzo credo che non lo cambierò mai non lo venderò mai porta nella tomba poi un pro master diver non mi ricordo la referenza meno male diciamo che il parente al quarzo della ny 040 meccanismo eco drive quindi carica solare quarzo tiene assolutamente bene il tempo ho cinturino nato di più colore quindi l'estate al mare quando lo voglio indossare a seconda dell'outfit mettiamo il cinturino giusto bravo è assolutamente un bello orologio da maltrattare da portare dove quando vogliamo poi invece abbiamo questo questo è un pochettino più diciamo ricercato raffinato ossia è un citizen anch'esso ecodrive con funzione gmt e work timer ma una funzione particolare una caratteristica è un quarzo diciamo con un con il controllo della temperatura quindi è un quarzo termoregolato termocompensato bravo quindi ha un termometro interno che sente la temperatura diciamo ambientale del circuito e compensa le alternanze oscillazioni del quarzo garantendo una precisione all'anno di circa 20 secondi quindi un super quarzo precisissimo senza dover rubare l'orario diciamo da fonti bravo onesto da fonti esterne insomma quindi non ruba l'oraio nessuno ma è molto molto preciso robustissimo acciaio 200 metri che onestamente in giro ne ho visti pochi sono molto contento e beh lo metto quando voglio quando posso ogni circostanza è buona e fa il suo lavoro un quarzo leale poi intanto ti faccio vedere questo fantastico sr71 di lego bello e i miei due supereroi che col quale mio bimbo si diletta bravo questo è il moon swatch dei noi altri degli anni 90 un crono della swatch ovviamente in alluminio leggerissimo è del 99 98 credo cambi pila e funziona benissimo cinto in in pelle e diventa elegante l'ho messo come orologio del mio matrimonio quindi appena io di così non mi può non mi può dare poi diciamo veniamo le contraddizioni pezzo forte della mia collezione bam e qua vorrei il top perché il si duella credo sia l'orologio più bello che la rolex abbia mai fatto questo degli anni 90 preso di secondo posto quando ancora gli orologi costavano il giusto adesso visto che viaggio molto con i mezzi resta spesso in cassaforte in casa e vabbè lo metto quando posso contraddizione e voglio il qualcio fecalert pagani design simil freccione con cinturino che ho messo io mi piace carino ovviamente nessuno ha preteso di voler esibire il noto freccione però questo è più grande le sfere non sono le stesse però sono diversi ovviamente lo richiama in tutte le sue caratteristiche però mi piace diciamo che una contraddizione al top questo simil freccale lo prendo a casa con piacere certo niente davide questa è la mia parte delle collezioni deve morire nel resto si qua c'è un altro g shock ma non aggiunge niente abbastanza classico gli shock iconico tranquillissimo classico e basta grazie della tua quello che fai per la community se mi lasci un commento su questa collezione cosa ne pensi di questi querzoni un abbraccio e buon natale se non verrà visto prima di natale ciao ciao buon natale anche a te buon natale anche a te niente ho perso dei minuti della mia vita a guardare una serie di orologi al quarto che mi fanno venire l'orticaria ma cioè ora a parte gli scherzi possono anche avere un senso c'è il quarto termocompensato c'è l'eco drive che prende la carica dalla luce ci sono quelli super resistenti ci sono quelli che si attaccano al satellite e quelli che si attaccano al segnale internet ma alla fine della fila ma cosa me ne frega mi fai vedere un orologio automatico con tutti gli ingranagini e io sono più contento anche un secco 5 hanno il loro senso va bene poi non lo so ti piace collezionarle si hai fatto anche tutta la serie di mission impossible che a me è proprio mission impossible tom cruise tom cruise a me proprio tom cruise quindi non ci vedo il senso a te ti diverti così avere gli orologi che c'erano in quel film lì è viva e viva e viva ma io 8 9 orologi al quartzo così ma uno forse ce li ho due o tre ce li ho ho anche l'eco drive qua eccolo qua ecco drive lì però boh poi c'è il sea dweller tanta roba che poi alla fine non lo usi mai perché c'è paura e poi c'è la cioffecca del pagani design che fa le imitazioni delle imitazioni delle imitazioni delle imitazioni e andrebbero tutti rottamati va bene dai ecco anche questo questo spaccato che abbiamo visto rappresenta una parte del collezionismo di orologi no tutti i orologi al quartzo ogni tanto uno come si deve vabbè facciamo c'è la ragione al prossimo video ciao davide anch'io mi chiamo davide come te ho deciso di inviarti un rapido video per mostrarti la mia piccola raccolta premetto che gli orologi mi hanno sempre affascinato ma come è capitato a moltissime persone solo durante la pandemia ho iniziato ad esplorare ed appassionarmi a questo mondo quindi è tutto un po work in progress come si può dire iniziamo con questo classicissimo casio che è postato da almeno 12 anni al quale non ho ancora mai sostituito la perfida batteria ma ne avevamo visti abbastanza finora giustamente mi fai vedere un casio al quarto con la batteria e mi dici che lei non ti tradisce che è tua amica e continuiamo così su questo orologio non ho moltissimo da dire tranne un paio di considerazioni per Eva che ha 13 anni e che ti saluta è l'unico esemplare in collezione che apprezza e che mi ha chiesto di indossare ho accettato con piacere constatando quando i giovanissimi siano molto molto attratti da queste linee anni 80 e di come lei faccia fatica a concepire un movimento meccanico che non sia alimentato da energia elettrica o comunque ecco da una batteria successivamente ho recuperato questo citizen al quarzo purtroppo è l'unico oggetto di mio nonno che è riuscito ad arrivare a me quindi c'è un discorso puramente sentimentale aveva il vetro molto graffiato in maniera assai marcata molto profonda tanto da proiettare un'ombra sul quadrante e questa la luce del sole dava molto fastidio per quella che è la visibilità dell'orologio ho sostituito il vetro per pochi euro e poi ho preferito anche aggiungere questo cinturino marrone bravo che vedete qui al posto del suo bracciale originale ovviamente l'ho conservato ve lo mostro come potete vedere è qualcosa di molto cheap e però non so se qualche giorno deciderò mai di rimontarlo purtroppo qualche mese fa ha smesso anche di marciare e ho dovuto provvedere alla sostituzione di molti elementi del movimento ho speso circa 30 euro nella riparazione se non ricordo male non so se ne valeva la pena ma ero troppo dispiaciuto nel vederlo morto è fatto bene quello che mi piace è la sua semplicità alla misura contenuta qui parliamo solo di 31 mm che risultano così sul mio polso che è da 17 cm sta bene arriviamo al mio primo acquisto consapevole al primo automatico eccolo qua Orient Kamasu nella sua configurazione classica nella colorazione a mio avviso più interessante quando l'ho acquistato era appena uscita la nuova versione quella con gli indici tondi per intenderci e ho sposato pienamente il parere di quelli che hanno ritenuto la vecchia referenza ovvero questa che vi sto mostrando più di carattere più riconoscibile sì sono d'accordo anch'io il vecchio Kamasu nel 22 è uscito quello di nuovo poi li chiamano tutti Kamasu non si capisce non potevano dargli un altro nome perché poi è uscito anche lo Sport è uscito il Mako 3 il Mako 12 il Mako 27 non si capisce niente con Orient sì questo qua con i denti a barra cuda con gli indici così a dente di barra cuda è quello più bello a vedersi è inutile da dire nella colorazione verde e petrolio poi c'è quella rossa quella nera che è un classico il Kamasu non sbagli mai l'orologio ha un buon rapporto qualità prezzo è anche una buona resa estetica ad eccezioni magari del bracciale è vero che c'è una soluzione valida aftermarket ma questa ha un costo di circa il 40% del prodotto finito la cosa mi ha un pochino frenato in estate lo monto con questo Tropic che vi mostro che lo rende un pochettino più comodo e confortevole è l'orologio che indosso di più perché non temo di rovinarlo accidentalmente e anche perché alla vista è sufficientemente appagante quindi va bene un po' in qualsiasi situazione ultimamente Orient ha sfornato tantissime cose forse anche troppe non apprezzo questo modus operandi della casa nipponica e preferisco sempre aziende capaci di proiettare un'immagine più identitaria attraverso la propria offerta e ultimamente ho visto i nuovi Citizen Pro Master mi piace molto questo con il quadrante cofrate e sto valutando anche un possibile switch ovviamente non mi va di tenere entrambi vista la somiglianza sia estetica che nelle caratteristiche tecniche quando l'ho acquistato mi sono un pochettino ripromesso di resistere alla tentazione di fare acquisti compulsivi su questa fascia di prezzo e di riempirmi la casa dei vari Seiko 5 Pro Master, Vostok posso indossarne uno per volta e voglio godermeli scegliendo bene la direzione da prendere e soprattutto preferisco mettere via quei soldini e puntare a un qualcosa di più alto se così si può dire e veniamo così al secondo acquisto o meglio questo che poi non è un acquisto è un regalo su mia imbeccata precisa alla mia compagna fatto bene e volevo un qualcosa di classico ed elegante che nella mia testa fa sempre rima con vintage ho trovato da un orologio di fiducia questo meraviglioso Lungine Flagship 35 mm e dalle mie ricerche dovrebbe essere del 63 o giù di lì me ne sono innamorato per questi indici applicati dorati e per il riflesso che restituisce alla luce del sole un pochettino difficile renderlo adesso qui in camera per questo fondello che ha la medaglietta in oro smaltato davvero iconica ma soprattutto per il calibro il 340 a cremagliera qualcosa davvero di unico e a tal proposito ti voglio mostrare una foto di questo esemplare senza il fondello questo è proprio il suo movimento il quadrante inizia ad avere qualche puntino segno del tempo la corona è logata e non so se riesco però ad inquadrare sembra originale purtroppo non aveva il cinturino e di conseguenza la sua fibbietta ho scelto questo poccodrillo nero che al tempo mi sembrava la soluzione più in linea con il concetto espresso dal design dell'orologio oggi magari smorzerei questo tono austero mettendo un qualcosa sul beige ecco su questo magari ti chiederei un consiglio visto che so che ne collezioni parecchie magari ho avuto modo di valutare diverse accoppiate ma io più che beige si puoi metterlo anche beige o marrone testa di moro ma sicuramente che sia opaco perché questo qua è veramente troppo lucido è un stampa coccodrillo sicuramente lucido troppo lucido troppo glamour non si addice a un orologio di questa età tra l'altro te lo invidio abbastanza perché il calibro 340 in collezione non ce l'ho non è che sia niente di particolare perché il calibro a cremagliera lì non è che poi abbia avuto quel successo poi l'hanno smorzata lì però è veramente tenuto bene come orologio e con tutte le parti coeve secondo me la corona, il quadrante, le sfere tutto il cinturino ti sei lamentato ma non può arrivare ai giorni nostri un cinturino di quelli a volte ci arrivano ma anche se ci arrivano sono veramente in condizioni anche no con il tempo un po' di pazienza qualche soldino ho anche trovato una migliore longin di quegli anni credo difficile dire quale montasse con certezza questo modello credo fosse molto prossimo a questa magari un po' più stondata allora se non lo so io sulle fibbie non è che si può sapere anche perché non ci faccio mai caso cioè l'ultima cosa che non ci sto nemmeno attento non le vado nemmeno a cercare io per i miei longin e le fibbie perché come si fa per sapere quale fibbia allora online ci sono io ho salvato nei preferiti varie risorse vari siti web nei quali speriamo che non scompaiano mai perché sono fatti da appassionati non è che sono ufficiali si possono scaricare anche i cataloghi dei longin di quegli anni 40 50 60 il problema è che magari qualcuno c'è il catalogo del 59 60 spagnolo poi c'è quello del 72 73 tedesco capito sono un po' sparsi così quello che c'è c'è sono in pdf li scarichi li vedi li guardi e da lì dovresti riuscire però in quegli anni facevano più che le foto facevano i disegnini quasi quelli che oggi sono i rendering i disegnini degli orologi come li vendevano è difficile capire come è fatta la fibbia però bisogna fare un po' di ricerca se ti appassiona il fatto di collezionare lo jean ogni volta che ne prendi uno prima di prenderlo vai a vedere nelle risorse che trovi online e cerchi di matchare le cose se qualcuno ha info mi farebbe piacere avere una conferma alta a proposito ed ecco l'orologio che mi risulta indossato molto bello ripeto un pulso da 17 cm bello bello assai veniamo all'ultimo pezzo della mia raccolta eccolo qua Seiko Prospex riedizione molto fedele al celebre navigator timer del 60 questo qua io sono l'ho fatto vedere in un video in gioielleria dal buon Giacomo mi è passato per le male il 38 mm me lo sono anche provato prova prova guarda poi sono tornato la settimana dopo volevo fare la recensione di questo gli ho detto c'è ancora il secco no venduto e quindi essendo anche un'edizione limitata mi sa che le mani sopra non ce le metto più però mi piace molto costa 1700 euro quindi l'hai anche pagato abbastanzina è un bel orologio prodotta in serie limitata di 4000 pezzi mondo con numerazione impressa sul fondello ti dico la verità non conoscevo questi dettagli non sapevo fosse un articolo così limitato posso dirti che l'ho visto in vetrina sono entrato l'ho comprato senza fare troppi ragionamenti colpo di fulmine è una delle prime volte in vita mia che faccio un acquisto importante senza cervellarmi considera che gli amici mi prendono in giro per la mia proverbiale indecisione tornando all'orologio 100 metri di impermeabilità complicazione GMT ghiera bidirezionale 24 ore frizionata quindi senza scatti indice logo seco applicati bracciale che trovo stupendo e comodissimo da indossare fondello chiuso a vite per fortuna io ho del fondello a vista anche quando rivelano un calibro ben lavorato sarà una mia fissa sicuramente ma il fascino aumenta quando alcune cose sono anche un pochettino nascoste le principali critiche che ho letto in giro riguardano l'impermeabilità insufficiente per essere un Prospex ok a 100 metri bastano che palle il calibro 6R54 per molti troppo basilare ok ci può stare ma è una cosa che non mi interessa so che marcia bene super collaudato affidabile preciso non so che cos'altro si possa desiderare l'ultima critica la più diffusa è il prezzo molto alto per un Seiko e anche qui ok vero ma non capisco perché tutti possono aumentare il prezzo dei propri articoli tranne i Seiko è una cosa che non ha senso e paragonando un pochettino per la stessa fascia di prezzo materiale e finiture che dal vivo sicuramente si percepiscono molto di più direi che ci siamo cioè la cura della lavorazione c'è la cia è bellissimo e insomma avete capito no e anche questo ve lo mostro indossato è bello è bello questo mi è piaciuto bene siamo ai saluti spero di non essere stato noioso e di aver rispettato i tempi ma questo lo scoprirò solo con il montaggio Davide ti ringrazio se pubblicherai questo video un abbraccio love un abbraccione un abbraccione quelli che dicono eh ma il prospect 100 metri non può essere eh ma poi anche la martellata sulle mani così e basta con sto pignolismo no pignola pignoleria e basta cioè 100 metri un GMT cosa vuoi di più ci vai dove vuoi ci vuoi anche fare il bagno al mare no perché se hai scritto prospect allora deve essere almeno 200 metri no e poi fai così fai così con gli occhiali e fai così col mignolino ma va a quel paese no è un signor orologio questo qua un signor orologio che avrei voluto volentieri recensire e non ne ho avuto la possibilità e pace tanto sono finiti 4.000 chissà quanti ce ne saranno basta sono finiti costa 1.700 te l'avevo detto costa costa gli orologi costano costano tutti perché un microbrand qualsiasi può fare un orologio a 1.500 1.300 1.400 e la secola non può fare un orologio a 1.700 cioè almeno non lo capisco questa cosa qua non lo vuoi comprare perché costano troppo non li comprare ma non stare a rompere gli scatoloni che un secolo non può costare 1.500 quando lo fanno gli altri microbrand qualsiasi microbrand li fa 1.500 gli orologi ma allora ma stiamo scherzando non li compriamo se costano troppo oppure li compriamo e stiamo zitti ma non lamentatevi costano troppo tutti costano troppo tutti tutti basta prossimo video ciao Davide ciao un saluto a tutti quelli che stanno guardando il video saluto mi chiamo Francesco ti mando questo video dalla provincia di Novara sono ormai un collezionista di orologi da più di 15 anni quindi questo video qui ti farò vedere un po' di pezzi sono tanti quindi cerco di andare via veloce vai tranquillo troppo lungo ok parto subito così ci togliamo i dente dai due quarzi che ho in collezione il primo è questo che è un citizen bn 0000 certificato diver 300 metri ecodrive la particolarità l'ho preparato con il nato smontato è che ha la cassa a monoblocco questo unito al fatto che ecodrive gli permette di essere impermeabile fino ai 300 metri minchia bello il secondo quarzo che ho in collezione è questo qui che è un tagoyer formula 1 anni 90 mi sono dimenticato di dirti che io ho il diametro del polso contenuto per cui tutti gli orologi che andremo a vedere sono abbastanza ridotti appunto come diametro ok ho cercato anche di dividerli per tipologie quindi adesso andiamo a vedere quelli a carica manuale il primo è questo qua che è un timex anche così vintage con la cassa in plastica la particolarità di questo orologio qui è che compare nella serie tv di mckgiver appunto al polso di mckgiver oh non sapevo il secondo che ti faccio vedere sempre a carica manuale è questo qua che è un citizen vintage anche qui praticamente è NOS e ha questo quadrante secondo me molto bello grigio con questi riflessi tendenti al blu ci piace bravo adesso andiamo rimaniamo sempre in Giappone ti faccio vedere questo qua che è un Seiko Lord Malver Lord Malver scusa ad alta frequenza anche questo qui in uno stato secondo me molto bello con un quadrante chiaro che lo rende molto anche elegante io l'ho abbinato con questo cinturino in pelle con queste cuciture chiare azzeccata bravo l'ultimo a carica manuale che ti faccio vedere è questo che è un Omega Seamaster Cosmic anche qui con la cassa a monoblocco sottile mi piace tanto perché ha questa forma un po' particolare appunto della cassa eh sì vintage poi ora passiamo agli orologi facciamo da sub che sono quattro parto con questo che diciamo sul canale si è già visto più e più volte che è il full loom bravo lo uso principalmente al mare comunque quando vado in piscina bravo il secondo cos'è sempre da sub è questo qui secco SKX 007J l'ho comprato e non l'ho mai usato infatti ancora tutte le sue applicate ma no ma no mi piace mi piace l'ho comprato non l'ho mai usato mi sa come c'erano lì che al momento buono lo tiro fuori lo vendo sul mercato e mi ci faccio i soldoni ma usalo anche io il mio l'ho venduto il mio SKX l'ho anche tenuto poco perché è arrivato un amico qua della zona che me l'ha insistito ecco il ragazzo che mi ha venduto il Seamaster 300 Professional lo mega Cristian Mencuni ciao Cristian tanti saluti a Cristian e lui e me l'ha durata me l'ha durata voglio il tuo SKX voglio il tuo SKX alla fine gliel'ho venduto a 400 euro io l'avevo pagato 350 dall'amico John Kustrap ci ho guardato anche 50 euro ma gli po' boh per fargli un favore alla fine gliel'ho venduto ma così con l'etichetta il cartellino messo lì mi dà un po' l'idea di di speculazione a sentirti te sei un appassionato di quelli con la A maiuscola quindi non è che ti voglio accusare però usalo usarlo cioè averlo averlo e non usarlo secondo me una collezione deve esserci comunque un orologio con un ottimo rapporto aveva adesso non più ma comunque un ottimo rapporto qualità prezzo io l'ho preso quando ancora si trovava dei prezzi decenti bravo poi facciamo questo un classico Black Bay Black Bay 58 top le sue linee vintage yes poi qualcosa di un po' più moderno almeno come disegno che è questo Longin Hydro Conquest l'ultima versione sempre da 39 mm con ghiera in ceramica blu promosso categoria crono sono 4 il primo che ti faccio vedere è questo qua Sigal l'ho preso perché secondo me in una collezione deve esserci non lo uso praticamente mai infatti ancora le pellicole applicate però mi piace comunque il quadrante che rimane leggibile e riconoscibile comunque avendo questi caratteri in cinese il secondo sempre per stare nel discorso di diametri contenuti è questo qui Speedmaster Reduced Automatic a me lo Speedmaster è sempre piaciuto però per il mio polso purtroppo il carica manuale è troppo grosso per cui sono dovuto ricadere sulla scelta del Reduced è sempre il discorso che ho sempre fatto la scusa qua che è grande è il 42 quindi prendo il Reduced ci sono altri Speedmaster che sono professional di livello superiore che sono più piccoli c'è il Coaxia da 38 mm c'è il First Omega in Space che è da 39 mm costano però costano di più di questo però ci sono gli ultimi due crono te li faccio vedere assieme sono questi qui quindi Riding Cronomat e sì lo stesso orologio però come vedi uno al bracciale rollò e l'altro al cinturino in pelle uno è bianco e l'altro è nero sono entrambi tra l'altro la stessa referenza quindi la prima quella senza la B alata sulla lancetta cronografica però anche qui è un orologio che in una collezione deve esserci perché ha una linea che è unica sta cosa dell'orologio che deve essere in collezione non è che mi garba tanto a me mi sento in obbligo no questo qua ci deve essere in collezione no questo qua e io sono scemo che non ce l'ho no non mi piace sta cosa qua poi volevo dire che il bracciale rollò senti come si pronuncia rollò a cartucela dite come volete voi io non l'avrei messo su quello bianco perché quello bianco quello con il quadrante bianco mi piace un pochino meno quello con il quadrante blu io prenderei il bracciale lo metterai su quello con il quadrante blu e quello lì track diventa l'orologio questo è il mio parere categoria GMT purtroppo non solo uno devo ampliare il prima possibile comunque questo lì Tagoyer Twin Time mi piace la mancetta GMT rossa e secondo me ha anche comunque un'ottima leggibilità appunto del secondo fuso orario non si vede spesso sto qua bravo categoria orologi eleganti sono tre parto con questo Tudor Oyster Date automatico carino vintage vintage cassa Rolex mi piace un sacco diciamo le forme della cassa secondo me la cassa comunque Oyster è una delle casse più belle che ci siano eh sì poi passo a questo Gran Seiko ad alta frequenza diciamo il primo Gran Seiko ti faccio vedere che secondo me solo il fondello vale la pena di essere visto con il suo classico medaglione con il GS secondo me hanno un rapporto qualità prezzo elevatissimo penso a questo qui degli anni 70 e si è conservato in una maniera diciamo egregia a questo quadrante che praticamente non ha nessun segno ultimo orologio della categoria dei canti è questo qui lo uso Conquest Heritage lo uso praticamente tutte le volte che devo mettere l'abito o comunque devo essere un po' più elegante anche qui il suo fondello veramente voce se ti spegni ultima categoria che invece sono quelli secondo me un po' più che uso maggiormente sono chiamiamogli gli everyday watch e sono tre partiamo da questo che lo conosci bene è l'haterra però qua rispetto al tuo la differenza è che la versione è da 36 mm quindi un po' più difficile da trovare infatti l'ho dovuta comprare in Giappone e sempre per avere tra l'altro anni fa avevo avuto il 39 mm che poi ho deciso di vendere proprio per prendere questa versione qui da 36 mm che secondo me almeno per il mio polso è più portabile certo fatto bene il secondo everyday watch everyday watch che è in collezione ma è quello che usavo più di tutti è questo qui Explorer 1 14-27-0 36 mm detto usavo perché negli ultimi anni con quello che è cresciuta la valutazione dei Rolex mi spiace quasi usarlo e alcune volte non dico paura ma tenerlo al polso non sono molto sicuro quindi ho cercato dopo tante ricerche un orologio che potesse essere usato con tutti i giorni diciamo senza aver paura per il valore o comunque per per essere nell'occhio anche quando si fanno dei viaggi magari in dei posti un po' più sperduti quello si lascia il terricaduto su questo che è un EVC vintage ormai perché questo qui è un anni fine anni 90 è 40 trizio ed è il Mark 15 secondo me della linea EVC Pilot è l'ultimo che ha senso avere in una collezione più che altro perché le lancette che si ispirano al primo modello di EVC va bene diciamo questa sono andato via molto veloce ma è la mia collezione spero di non aver di non averti annoiato e un saluto a tutti gli iscritti al canale un saluto un saluto collezione abbastanza lunga insomma dai annoiato no però non me le ricordo più praticamente una marea poi messi così a scaglioni l'unica cosa su quel Rolex Explorer che non lo indossi perché è paura se vado in posti in viaggio vabbè se vai in viaggio se vado in viaggio all'estero magari non me lo porto nemmeno cioè cosa mi interessa se ho tanti orologi mi porto qualcos'altro ma nella vita quotidiana cioè non riesco a capire dove tu possa abitare cioè perché vai a vai a in qualsiasi posto che mi viene in mente durante la giornata cioè come fa a capitarti un cioè non dobbiamo nemmeno fasciarci la testa non dobbiamo nemmeno smettere di vivere per paura di cioè logico che se vai a luna di notte fuori dalle discoteche nella downtown di qualche zona e sei anche ubriaco e vabbè se ti succede qualcosa è quasi il contesto giusto no ma se vai a fare la spesa al supermercato insomma in pieno giorno magari con anche il maglione che copre il polso chi te lo vede l'Explore chi te lo ruba l'Explore nessuno penso no insomma ci vuole anche un po' di affrontare il destino a testa alta altrimenti ci nascondiamo e basta finita lì dai tutti i orologi belli mi è piaciuto anche l'acquaterra lì da 36 hai tutte le versioni più compatte degli orologi per via del polso mingarlino come si suol dire e poi i vintage belli ma tanta roba bella tanta roba bella dai ti faccio i miei complimenti boh ragazzi mi sembra di aver detto tutto qua abbiamo finito io vi ringrazio per essere arrivati fino qua come al solito spero vi siano piaciuti i video il mio video il mio orologio me i miei occhiali tutto vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao